Il primo novembre 2006 Il primo novembre 2006 Il primo novembre 2006 Questo inizio che risponde alla domanda Ma che gli avete fatto allora sti russi Per provocare se è vero che ciò che è accaduto dopo È una reazione Se è una reazione qual è stata l'azione che ha provocato E' una domanda a cui posso rispondere parzialmente Ma documentalmente Nel senso che la massa documentale oggi è enorme Anzi ne vengo sopraffatto Perché a lavorare in questa vicenda sono in tanti E tra questi tanti abbiamo avuto un altro paio di vittime Tra l'altro uno è stato un giornalista ex Un uomo di intelligence Che lavorava per il generale Per il giornale commersante Che è volato al quarto piano Della sua casa un paio di mesi fa Un altro Joel Un giornalista americano Che poi ha fatto tutte le interviste Anche prima a Lettinenco E poi dopo che lavora Lavorava a Filadelfia E non è morto È ancora vivo Ma gli hanno sparato due revolverate Questi sono ultimi aggiornamenti Allora fino al primo novembre La commissione Mitrochini è spirata Silenziosamente Nella indifferenza totale e generale Gli italiani sono stati esentati Dal sistema della carta stampata E delle televisioni tutte Come ripeto sempre Mediaset in testa Perché la RAI ha dedicato In quattro anni di commissione Mitrochini Tre reti Ha dedicato due minuti circa in tutto Nel corso di un TG2 In cui fecero un breve servizio Mediaset ha fatto di meglio Perché ha fatto zero minuti e zero secondi Quindi gli italiani I giornali hanno pubblicato Diciamo Repubblica Unità Il Foglio Che è stato un giornale ostilissimo In maniera molto Imbarazzante direi Perché non ha mai pubblicato un vero articolo Sulla commissione Mitrochini Ma 260 punzecchiature Sfottimenti Tutti uguali Perché anche l'esercizio dello sfotto È stato sempre tristemente piatto Dall'inizio alla fine Quindi gli italiani non hanno saputo nulla La gente ogni momento mi fermava per strada E diceva Ma com'è finita? Dico guardi è ancora in corso Ma era quella cosa su Cos'era Telecom Serbia? No signora Si tratta di tutt'altro Quindi la commissione muore Insieme alla legislatura Perché la legge istitutiva Ha stabilito che durasse Tanto quanto la legge Io l'avevo fatta prolungare Deveva durare solo un anno Poi abbiamo fatto Ho fatto una legge di proroga Anche quella richiesta Quasi un anno Per essere Per essere Però Il discorso La commissione finisce Finisce Senza No Oh Dio santo Cosa sweeties? Love you too Come facciamo? Qui c'è un problema Di ordine pubblico La gente mi fermava per strada E mi chiedeva Ma quella cosa La commissione Come si chiama? Telecom Dico no Quella è un'altra cosa Mi trochi Perché era sui soldi A cosciutta Io constatavo Con costernazione Che salvo Una pattuglia di pazzi Che seguiva I lavori parlamentari Attraverso i siti parlamentari Dove uno poteva trovare E roba Gli italiani Non sapevano nulla Per cui Morta la commissione Mi trovo Nella Più totale Non solo indifferenza Ma inconsapevolezza Questo non era mai accaduto prima Io faccio appunto Grazie al mestiere che faccio Io ho seguito Tutte le più importanti Commissioni di inchiesta Anzi tutte Salvo la fede del consorsi Perché ero troppo giovane Ma le altre Me le sono fatte tutte Dalla P2 L'antimafia La Lockheed E la stragi E non è mai successo Nella storia giornalistica Di questo paese Che una commissione Bicamerale Parlamentare Di inchiesta Fatta di 40 Parlamentari Di cui 22 Della maggioranza E 18 Della opposizione Fosse Così scrupolosamente Ignorata I giornalisti Venivano Assistevano Perché le sedute Erano pubbliche Assistevano Davanti al televisore Del circuito chiuso Spesso si entusiasmavano Poi tornavano Andavano nelle loro redazioni E poi mi telefonavano Dicendo che il redattore capo Aveva detto La commissione Mitrokin Non esiste Questo specialmente Al Corriere della Sera Il redattore capo Chi è? Secondo Non lo so Chi era In quel momento Il redattore capo Ma che rispondeva Alle direttive Del direttore Che a quell'epoca Era Era Folli Prima O dopo di lui È stato Come si chiama L'altro Che adesso sta All'RCS Beh insomma Comunque Con Palomieri Le cose sono Cambiate Non molto Però un po' meglio Dato Un minimo Di spazio Quanto arresto Zero assoluto E ripeto Poi in Italia Come in ogni paese Del mondo Ma più che altro In Italia Dove la gente In Italia Non legge I giornalisti Secondo te Potrebbero testimoniare Questa cosa È un fatto È un fatto I giornalisti Possono Non posso Qualsiasi cosa Dicono Non posso Non negare Che Essi Non hanno Scritto Ma sai Dovresti Intervistare Perché non esiste Un giornalista Deputato Tu che avresti Dovuto occupartene Perché non te ne sei occupato Perché io Avrei dovuto occuparmi Uno di quelli Che tu dici Che ti raccontava Che è andato a dire Ah beh Questi Ma c'era Un paio Di giovani Ma sì Virginia Piccolillo Per esempio Che è una mia amica Che sta al Corriere della Sera Che si è occupata Poi anche lei Di varie cose Io a un certo punto Andavo facendo Una missione a Budapest Formale Ministero di Grazie e Giustizia Ministero degli Interni Diplomazia Tutto l'apparato Non è che si va lì Si prende la valigia E si va a Budapest È un apparato Burocratico Una visita ufficiale E questi qua Ci danno delle carte Alcune Perché le altre Ce le fanno solo vedere Restano chiuse In una valigia Verde Perché Perché come scoprirò Sempre in progress I documenti segreti Che stanno Nei paesi Ex Patto di Varsavia Sono tuttora Nella disponibilità Della Russia E quindi Quando io sono andato A prendere Dei documenti In Ungheria Per esempio Quelli indicavano Il soffitto E mi dicevano Non si può E io dicevo Perché chi c'è sopra E chi c'è sopra Va a vedere Chi c'è sopra Sopra c'è il colonnello Russo Del KGB Che adesso Si ha cambiato nome Si chiama SVR Questo è stato I giornalisti Per esempio Virginia Picconillo Allora Io Per rispondere Alla tua domanda Ho una giornalista Alla quale Che però sai Il giornalista Che accetti Di dire Pubblicamente Che voleva occuparsene Ma che lo hanno dissuaso Ci vuole molto coraggio E anche Un certo senso Di Autodistruzione Insomma Perché non ti metti Però Io a un certo punto Mi trovai tra le mani Le carte Scritte Dei servizi segreti Ungheresi Sul fatto che Carlos Il terrorista Carlos Il terrorista Carlos Nel anno in cui viveva A Budapest Sotto il controllo Sovietico Aveva Tra E viveva Quindi Aveva questa organizzazione Separate Che era controllata Dal KGB E faceva Svolgeva azioni Di terrorismo vario Per conto Della stasi E del KGB Sotto la loro supervisione E aveva nella sua disponibilità Tra gli altri Una serie di brigatisti Rossi Siccome una delle vecchie questioni Era Le brigatose Erano eterodirette C'erano C'erano Antonio Savasta Uno dei più famosi